Ciao amici di Goricia TV, sono venuto perché mi hanno detto vai in via Trieste che c'è dei scalini, delle cose. Comunque ho fatto il lavoro, ho visto che c'è una marea di traffico tremendo e voglio fare un saluto agli operai che stanno lavorando oltre le 6, loro non c'hanno nessuna colpa. Guardate il problema, io sono venuto solo perché mi è stato detto di andare a vedere che c'è un scalino, non so cosa. Questo è il lavoro, buon lavoro agli operai. Adesso devo andare a vedere che c'è, ha detto, c'è il ponte e c'è un scalino. Adesso vado a vedere, però guardate un po' questo servizio, guardate che roba. Bene, allora mi hanno detto vai a vedere dove c'è il ponte, dove che stanno lavorando, che c'è un scalino. Adesso io, mi dispiace per quella persona, hanno detto che ci vado. Adesso però intanto io filmo e vediamo. Ha detto che c'è una specie di scalino, chissà. Vabbè, comunque è così. Adesso io vado avanti un attimo. Sarà questo forse il scalino che dice lui? Chissà. Vediamo un po'. Questo qua. Vediamo, andiamo avanti un attimo. Andiamo avanti un attimo. Vediamo un po'. Qua c'è questo. Ponte. Vediamo. Questo qua. Però io non vedo nessun scalino. Non vedo nessun scalino. Chiudiamo qua un attimo e dopo andiamo su. Penso che sia questo il scalino che dice lui. Quello lì. O questo più avanti. Vediamo. Vediamo. Lavori eterni qua. Insomma, il ponte balla proprio. Passato questo saltava. Bene, salutiamo i grandi lavoratori. Eccoli qua. Che stanno lavorando per Gorizia. Eccolo qua. E buon lavoro. Grazie. E speriamo che finiscono presto anche. Siamo le persone che lavorano veramente tanto. E speriamo che presto finiscono i lavori. Un grande saluto a questi operai che veramente stanno ancora lavorando e sono dopo le 6. Ciao a tutti.